Grazie Presidente, in effetti questo ordine del giorno è nato in Commissione del Bilancio per impegnare la Sindaca e la Giunta affinché nel momento in cui stiamo destinando delle risorse all'acquisto di autobus, tenere conto del fatto che abbiamo aderito al PAESC e quindi cercare di incontraprendere questo percorso, quindi acquistare autobus elettrici o a metano, quindi considerando che il parco come sappiamo è obsoleto, Euro 2, Euro 3, quindi c'è questo ricambio, è fondamentale che vengano rispettate le norme sui vincoli ambientali perché fra un po' ATAC rischierà di non far circolare gli autobus perché non c'è rispetto dei vincoli ambientali. Allora per evitare questo e visto che stiamo andando verso questo percorso del cambiamento e allora tener conto di tutte queste premisse ed è per questo che ho approfittato per presentare questo ordine del giorno e molto contenta che stiamo già attuando tra virgolette il PAESC. Anche questo è applicare poi in concreto le nostre politiche, non la nostra linea politica. Grazie.